Parte il grande weekend del Moto Mondiale 2014 con l'undicesima tappa a Bernon nella Repubblica Ceca. Per Valentino Rossi il terzo posto americano ad Indianapolis ha generato fiducia per un nuovo podio e cercare di fermare il cannibale Marquez giunto a dieci successi consecutivi ed insieme a Lorenzo di trovare la strategia giusta per batterlo. Oggi le prove libere, domani quelle ufficiali per stabilire la griglia di partenza della gara in programma domenica prossima alle 14.